no non mi è mai riuscito bene leccare il culo al professore no non mi è mai riuscito bene a ruffianarmi le persone sono cresciuta in una famiglia in cui tutti i giorni suonava la sveglia mia madre buona come una santa come mia nonna che grande donna sono cresciuta senza dormire perché di notte volevo giocare mentre mio padre un bravo dottore a volte di notte doveva operare e mantenere la lucidità per far del bene alla società sia quella gente che spesso o a volte non è mai stata tanto riconoscente no non mi è mai riuscito bene leccare il culo al professore no non mi è mai riuscito bene a ruffianarmi le persone no non mi è mai riuscito bene tradire se c'era l'amore il mio peccato originale è che possiedo una morale e anche la scuola che delusione non certo il posto delle buone maniere ci ho messo parecchio a farmi accettare e ancora di più a farmi rispettare e anche nell'ora di religione c'era chi bestemmiava pretendendo attenzione urlando forte per farsi sentire mentre io volevo soltanto cantare cantare ogni pezzo del mio cuore infranto per farlo risorgere col potere del canto no non mi è mai riuscito bene leccare il culo al professore no non mi è mai riuscito bene a ruffianarmi le persone no non mi è mai riuscito bene tradire se c'era l'amore il mio peccato originale è che possiedo una morale ed ascoltare la coscienza non è un fatto occasionale un altro shock l'università ma quanta gentaglia che passa di qua c'è chi si sente parecchio arrivato perché ha studiato ma non digerito un po di marx ma che ci vuoi far con un po di hegel e un pochino di marx no non mi è mai riuscito bene leccare il culo al professore no non mi è mai riuscito bene a ruffianarmi le persone no non mi è mai riuscito bene tradire se c'era l'amore il mio peccato originale è che possiedo una morale ed ascoltare la coscienza non è un fatto occasionale 110 lode in filosofia morale nell'era digitale non so se mi salverà